Grazie Presidente, oggi vogliamo ricordare un grande cantante che ha avuto una carriera di più di 40 anni, un cantante che cantava a Roma, cantava le canzoni romane e credo che oggi celebrarlo in qualche modo in quest'Aula, ricordarlo in quest'Aula sia molto importante. Lo vogliamo fare chiedendo appunto di individuare un luogo alla Carbatella, simbolico, che possa essere intitolato all'artista. Oggi l'Assemblea Capitolina vuole portare questo documento e spero che veramente si possa dare un segnale, perché credo che questo sia il luogo adatto per ricordare artisti che hanno raccontato Roma, che hanno voluto bene la città e che comunque hanno testimoniato quello che questa città rappresenta nel mondo, in Italia ma anche nel mondo. Per cui chiediamo di poter intitolare la scalinata che troviamo all'interno del documento alla Carbatella a questo artista. Grazie Presidente.